Partiti! Bene, andiamo a combattere! Andiamo, andiamo! Yeah! Almeno prima. Ah, ce l'avevo a tutti. Ciao! Mi sa che registra pure il gioco Vindictus, ma non ce ne frega una metamazza, anzi adesso cerco di staccarlo perché che mi registri pure Vindictus, a me me ne sbatte proprio niente. Eh, metti il volo a zero, tanto. No, no, c'è una features nel gioco, per chi non lo sa, che puoi registrare i video, anche se non c'hai... Sì, è vero, ho provato. Allora, scegliamo una missions? Scegli. Vai, scegli. Perché possiamo fare noi? È per forza. Facciamolo... Siamo in tre. Hero, no. Bisogna essere in meno cinque. La facciamo Hardin, tre. Privato, sono gli inviti. Battle, scegliamo... Questa, no, questa da Ride, mi sa che non puoi essere girata. Oh, ma che vengono porti, tu? L'hai visto? No. Il vostro vestito non è giusto, dai, andiamo a farle battagli così vedete i vestiti. Ok. Che porta, bombe o lancia? Porta quel tipo... No, aspetta, non abbiamo il livello. Non lo si può fare, questa. Allora ne prendo un'altra, questa si può fare. Ok. Veloce il caricamento, speriamo. La mamma mi ha caricato la barca, sì, è ok. Sì, sì, basta che tu lo guidi, è ok. Stai tutti a bordo. Ah, comunque ci possiamo presentare. C'è Rusha. Talbe, talbe. Come grazie ti sei chiamato? Stay Sail? No. Ma perfetto. Stai, stai safe? Stay Sail, perché quell'altra ero in mutande, non c'avevo manco più uno a fare. Ok, se premete... Ok, tutti ready? Ok, si porta, yeah! No, l'invento è in vantaggio. No, che cazzo. Vabbè, vi tenevamo anche informati sul football, voglio dire, ma queste registrazioni... Semi... Che vorresti di più? Giovane uccello, che hanno chiamato, lascia. Chi è già l'uccello? Lascia, early bird. Early vuol dire fresco, quindi un po' giovane. Mi chiamo un uccello, io... Non è colpa mia, non ho detto niente. Non volevo, volevo solo dirvi questo. Io non c'entro nulla. Ma il tempo con il previsionismo vicino a New York, avete visto? Quello girato da Scorsese. Brock. Allora, cominciamo. Ora, mi debbo ricordare. Ok, tu sei qui sul Germano, non ti ricorda niente. Ma voi l'hai visto la mia conia che si alza? Sì, ho vista, ho vista. Non gioco a questo gioco da una vita, fatemi ricordare come devo lanciare le spell, ma raccordo. A questo è il po' che mo' ci fanno crollare sti stronzi, no? Sì. Sto un po' allaggato, come mai? Ok, quindi salto. Ok, mi sono ricordata, perfetto. Ci sta posto da finì. Ecco, quello è il gioco del Germano. Quanto odio sti stronzi con le frecce. Hai rotto l'affare per andare dopo a... Vabbò, non fa niente. Quale? Quello affare poi si va dentro, ci sta la jarra piena di oggettini film. Poi vai girare dall'altra parte. Ma non c'è voglia. Ok. Dove ma... Dove siete? Saluto. Ah, stai sotto. Saluto! Ok, io e la mia mania di rompere qualsiasi cosa. Sì, sì. Ora, man mano che mi ricordo... Ah, quali sono i 3 serlecchioni con... Con le fionde, eh? Sì. Può essere. Voglio andare in mezzo, ma adesso ci ferma la siagra, voglio dire un bambino, io... Faccio Ice Blast a Capopitto. L'emorroidal... Ah! Quello con l'emorroidi! Ah. E' costipato! C'è sta? Eh, allora, uno è costipato. Costipato vuol dire che ce ne morrò. No, ma come è tutta questa luce? Non vedo niente. Costipato è... Che se ne sono andate, io sono quella... Sì, che ti capito ogni tanto. Ah, so stanco. E' una mamma. E' una mamma. Il maledetto ragnazio. Sono stanco. Cazzo, mi fa fatica questo mi sta a fare, oh. Cazzo, non deve andare, l'ho quasi ammazzato. Non deve andare. Ok, io sono stanchissimo. Io pure. Che palle ho. Allora. Comunque, uno c'era l'emorroidi, l'altro l'ha costipato, un goppiettone. Mannaggia. E' un soldino, soldino. Si è ossessionato. Si è ossessionato. Ma sembra di quello che va in giro e rompe qualsiasi cosa. Sì. E si ferma. Se lo faccio quando sei solo, se devo cercare tipo le robe, ma se no... Sì, sì. Io rompo tutto, cerco tutto. Via. Ecco qua, vi è fatto il ciccio con l'emorroidi. Ah, ma non era morto. No, era scappato. No, è scappato. Mamori, scappa pure a fine. Se sbaglio a premere i tasti è un buon problema. C'è ragione. Hai. Concentra il fuoco delle... Delle frecce di aromani. Eh, è rinato sto stonzo. Si è rifullato. Come si è rifullato? No, c'aveva la doppia vita. Ah, vita, è vero. Mi diventico sempre che qua c'è la doppia vita. Giusto? Qui c'è anche la doppia vita. Ecco, mi si è pronto il cazzo di Elmetto. Un glam amare. Di già? Sì. Ho preso una manica di schiaffi perché se lo Germana starà in giro... Ah, ecco. a guardare le mignotte. Giro, intanto, l'espera pure io era arrivato a zero di cosa. Ci puoi fare il Noelle a pochi livelli 19, ci puoi fare tutta la fatica. Ma perché? Ha pareggiato il Palermo? Nel frattempo? Eh, vabbè, di tutto il risultato se devi informare. Cioè, che cosa volete di più della vita? Io vi sto pur a tenere informati. E dici, Palermo 1, l'altra squadra 1 e anche i marcatori. Io vi dico che lo fai bene. Oh, ma metti un viaggio alla mano. Troppo impegno. Dove stai? È dietro a più agli schiaffi. Fatto. Ok, fatemi prendere un po' di gemmine. Senza Elmo c'è il capello più bello, però. Io pure non ho più l'elmo. L'elmo, quella sorta di turbante. Gemma, Gemma, Gemma. Ok, si può procedere? Andiamo. Aspetta, Gemma. Non la sto sentendo, basta che due vanno avanti le cittadini per forza. Che stronzi che siete. Ok, aspetta, vai via da lì. Vabbè, lo faccio, ma la mangio. No, hai il cazzo e il masco. Fatto. No, l'è. Poi c'è pure un getto. Ok, vai. Ma io posso darvi roba che a me non serve a voi, no? E a voi sì? O la voi posso mettere all'asta? No, credo che si possa fare il trade. Poi lo proviamo. Non l'abbiamo mai fatto, però, affettivamente. Anche questo ha la vita per due. Ah, ne sono due, giustamente. Ne sono 75, non due. Oddio, io sono andato indietro. L'arrivo a partecipare. Fai di Malamain, secondo me, vorrebbe essere utile. Eccolo. Sempre il costipato, sto giro, ci abbiamo. Oh, ognuno c'è i suoi problemi, scusa. Ecco qua, mi stanno picchiando. Mi mettiti da lontano, che fa più agli schiaffi in... Ah, questo c'è il doppio della vita, è vero? Oh! Allora. Andiamo a capirci. Ok. Uno l'abbiamo completato, ma l'altro. Costipato. Lascia, stai da lontano e lascia che sia tu oggi o più agli schiaffi. Cioè, vattene da là, fammi a te lo respiriamo e l'ammazzo io. Ha segnato Milito. Anche il costipato? Ah no, il costipato è riappassimo. Questo, quello con le morroidi, per due le morridare. Che sarà figlia con me il cazzo di uomo con le morroidi? Dai che lo ammazziamo. Opla. No, non l'ho fatto qua. L'ammammiamo. Anche questo abbiamo ammazzato, ma grandissimi. Ho finito anche, non so quale missione. E poi prendiamo tutto il prendibile. Ovvio. Tutto... Qua ho aperto il besta pure l'anfora, la figa, infatti, è qua. Sì. Aspetta, io smaneggio qua, smaneggio. Un po' un signore. Il maneggio è brutto. Poi ci vuoi un recap dei risultati? Lazio-Milano sono ancora 0-0. Poi? Cagliari-Roma 3-2 per il Cagliari, ancora. I rimanettatori del Cagliari? Eh no, no, no. Ma ci sta! Non li so, al momento non li so. Cucetta Puzzolende ci sta. Ok, ha ammazzato pure Lucetta Puzzolende. Come Lucetta Puzzolende? C'è una Lucetta Puzzolende. Ha segnato la Lazio. Ma vieni! Hernanes. Ah ah ah, come godo! Adesso, tra due minuti, arriva mio padre a dirmi... Io do la... Come è il minimo. Gli ne frega mai una mazza, però quando devi rompere i giovani... Ha una capacità... Oppure ce l'ha stata presa col gatto, quindi. Ok. Ah, aspettate, io devo ancora finire di prendere tutte le robe. E chi si muove? Io sto già in città, ma fa niente. Se con l'ospedito è già in città... Eh? Se con l'ospedito è già in città ci stai pienamente. No, sto veramente, ho scritto le turnette town, sono tornata. Allora. Ok, close. Torniamo to town? Sì. Ok. Yeah, yeah. Facciamo qualche altra missione, vogliamo fare una. Ma sì. Ma fa quelle che sto tosto, che tanto te li ammazzo io i nostri. Sì, come hai ammazzato Filamosi, è un vasullone. Ma per piacere che li ammazziate tutti e tre io li ammazzati. Ma per favore finisci. No, per favore. Ma per piacere che voglio... Mi hai fatto rompere l'elmo. No, smettila, va. Vado a riparare un attimo, eh. Eh, riparato. Eh, non riparare, mi tocca pure andare a riparare. No, guarda. Tu, 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 tu. Mi ho riparato per forza. Alla Forge mi sa che posso andare a riparare. Eh, sì. No, io no. Sì, alla Forge io. O al tizio quello del negozio di stracci. No, riparare? Sono la Forge che sappia. Ma voi siete i magici però, quindi non lo so. Tu dove hai riparato? Io la Forge che devo riparare sempre. No, la Fede. No, la Forge. Ok, dove la Forge. Comunque, ascolta, tutto l'accento di expert mi sta girando con ciò culo. Mi prendo anche una quest, ho visto. Che me la posso prendere. Al Laboratorio Magico. Oh, l'Inter ha fatto anche il quarto, se l'avevo detto. Milito? Mmh. Sì, allora ce l'avevi già detto. Perché, oh, qua mi che face... Al Laboratorio Magico ci state la merda? Se l'avevo già fatto il quarto. Vabbè, dai, niente quest. Tutti al porto o a menà? Ok, vabbè. Ma no, prendili quest. Cos'è, finisce. Che te lo, questo che devo fare io non trovo il vostro livello, quindi per me è inutile. Però, però, si sta... Si sta... Si sta... Si sta... Si sta bulla' Mi sta bulla' Fuori gioco, quindi annullato, insomma. Eh, pazzini, Milito. Ti avviso che sto giornalmente si sta bullando. Mi sto bullando, guarda. Mi sta bulla' Va buono, io ho fatto. Tutti al porto, dai. Tutti al porto. Di sti tempi, tutti al porto, o vai a protestare o non si fa niente. Ma hanno drogato a pescare, ma vattano. Ma che hanno drogato. Ma se ancora non ho sequestro tutto. Ancora? Ma come che erano buoni i fanghi? No. Non erano una cura ottima per la pelle e i reumatismi? No. No, mo c'è tutta una diatriba su sti fanghi che li deve analizzare una... Un'altra... Eh, sì. Con un'altra roba, deve analizzare... C'è un fangolo, metteroscopio, ci riesce anche un ragazzo di 12 anni che è andato al perito magistrale, eh, cioè... Allora, questa la dobbiamo finire in dieci minuti, eh. Vai. Comunque no. E adesso si paga l'iva sul gasolio, tra le altre cose, e quindi si protesta. Beh, sul gasolio... E' una porcheria. Guarda che blog interesse, ne parliamo anche di problemi sociali, lo so dei cazzi nostri, ma quando siamo bravi. Ebbè, sono situazioni di vita vissuta. Ebbè. Ok. Ma che qua stai messo? Froststone. Ah, il cetriolo gigante è qua! Non lo so che cetriolo è, ma so che è una ingula all'ortolano. Smetti di rompere le cose! Fede, scendi. Dai, quanto sei brutto! Premete tutti i redi? Sì, hai ragione. Certo, è proprio redi. Lo so, e c'era una che... Io sono redi. Sì. Scritto early bird. Se non hai quel nome, ti prendo per il culo. A morte. Piccolo uccellino. Gliela famo? Ma ora! Oh, e qua non parte, le bocce departing, è una nuova che c'è scritto departing. Ma perché la microannessione ti rende schifo sto vedendo? Infatti il problema, ecco... Il problema è il mio, sapevo. Sì, sempre sì. Server response delayed. Quindi immaginiamo che dovremmo uscire, così vedete anche che non è che bing-gutus è sempre di play, però... Ok, quindi lì parti an'exit, Mr. D. Io ho un guardo di carica, vedi un po' tu. Sto guardando una scritta... Perché a me, ma, Mr. D start. Cioè, mi ha fatto un eco barca qua. Sì. A me il problema è il tuo, eh. Io sono sempre redi, invece. Ecco qua. Ti ha buttato fuori? Sì. Vabbè, allora possiamo fare una cosa. Chiudiamo la registrazione qua. E continuiamo a giocare. Ovvio. Allora, ciao a tutti! Arrivederci!